Grandi campioni, oggi qua al Gala della Castagna d'Oro Frobosa Sottana per ricevere la Castagna d'Oro. Allora, qual è stato il momento migliore che vuoi condividere con i nostri lettori? Penso che il momento migliore che mi ha portato anche a essere tanto conosciuta, a entrare nelle case degli italiani, sia stato il secondo posto alle Olimpiadi di Parigi. Che emozione è stata? Te l'aspettavi? No, tutt'altro. L'atletica, soprattutto il mezzofondo, è in mano, ha un dominio molto africano e quindi ritrovarmi in mezzo all'ora è stata una completa sorpresa, sicuramente un sogno. Tu sei giovanissima, come ti sei avvicinata allo sport? Mi sono avvicinata allo sport in quanto mamma e papà praticavano atletica, sono sempre stata una sportiva tutto tondo, quindi praticavo tutti gli sport, finché poi mi sono avvicinata all'atletica e da lì non ho più smesso. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? I prossimi obiettivi sono i campionati europei di cross a dicembre. Grazie. 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 Grazie.